Emozione a mille ieri nella riapuntata del festival di Sanremo 2020, 4 febbraio. Infatti pensate che il bravissimo Tiziano Ferro ha cantato Mia Martini e avrebbe stonato da come si regge sul web e poi sarebbe scoppiato addirittura a piangere. Voleva semplicemente omaggiare la straordinaria e magnifica cantante italiana sorella di Loretana Bertè ma che palle rovinato tutto avrebbe detto poi sarebbe scoppiato in lacrime. Il tuo bello e la tua spontaneità amadeus così gli avrebbe detto andandola a rincuorare e ad abbracciare il cantante di Latina per eccellenza ha voluto semplicemente omaggiare la straordinaria cantante e sorella di Loretana Bertè. Viva la sincerità di Sanremo Ferro così sul web molti hanno scritto un uomo vero, un uomo sincero, un uomo volitivo, un uomo in gamba, un uomo straordinario del suo genere ma soprattutto umile, sincero, sensibile al 100%. Tanti auguri di buona vita al buon Tiziano Ferro, il cantante di Latina per eccellenza. Iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video.